Sia nel sesso maschile che femminile c'è questo dimenarsi, questo mimare i testi, mimare i brani, che sì è bello perché comunque catturi l'attenzione del pubblico, ci si diverte, però poi chi si fa il mazzo per creare nuova musica alla fine non viene mai apprezzato. Grazie al cielo ci sono ancora artisti come lei che non si dimenano, che non escono queste, che non iniziano ad atteggiarsi, a pompare le labbra. Ciao a tutti, sono Mario Porcelle che è il Rollo4 e questa è la seconda puntata di Lato B. In questa puntata avrò l'onore e il piacere di ospitare una talentosissima DJ che ha fatto già parte del mio podcast, Silvia Postiglione aka Aura. Eccoci qua Silvia, benvenuta in questo podcast. Allora, che dire, io e Silvia ci siamo conosciuti ormai sono 4-5 anni. Ci siamo conosciuti in varie serate che abbiamo fatto insieme, anche poi con Damiano che è avuto il piacere di ospitare nella prima puntata. E niente, alla fine la prima domanda che volevo fare è di presentarti, chiaramente a chi ci stava guardando, da dove vieni e come sei arrivata nel mondo del DJ. Quindi facci un po' una panoramica di solito. Sì, vengo da Barletta, come Mario, che se sono un po' cittadina di mondo. E ho iniziato già in cuffia, come molti adolescenti, quando si rifugiavano un po' dai vari problemi, si mettevano le cuffie e ascoltavano la musica. Quindi ho iniziato ascoltando rock, rock, sinfonico, band nello specifico, Muse. Già quel suono della chitarra un po' mi ha catturato, tanto da voler imparare a suonarla, per cercare di, un po' come faceva il frontman, Matthew Bellamy, replicare suoni vocali con la chitarra. Quindi iniziando da autodidatta, poi a suonare la chitarra elettrica, ho iniziato anche a creare dei beat con la chitarra elettrica. Tutto questo purtroppo con tanta, tanta timidezza, che poi mi sono trascinata nella vita, primandomi anche di suonare con varie band. E quindi mi sono affacciata al mondo della musica, prettamente con la chitarra elettrica, poi ascoltando, insomma, altre band come Led Zeppelin, D'Ors, un po' di psychedelic rock, fino ad affacciarmi alla musica elettronica. Infatti volevo, cioè ero curioso di capire questo passaggio che tu hai fatto, perché tu hai iniziato suonando la chitarra, quindi non nasci come DJ. Sì. Cioè nasci più che altro come musicista, comunque di chitarra, comunque strumenti, possiamo dire analogici. Come è successo poi il passaggio all'elettronica e al mondo del DJ? Beh, frequentando serate, qui sono stata trascinata da amici, nonostante bene o male non fossi molto affascinata più che altro dal clubbing. Poi una volta che lo vivi inizi a capire cos'è quell'energia che si crea. Questo l'ho imparato frequentando più i rave che i club, sinceramente. Quindi poi da lì autonomamente ho iniziato comunque ad ascoltare anche band come in Moderat e a provare a replicare suoni elettronici con la chitarra elettrica. Quindi cercavo sempre di, quando stavo ovviamente a casa, di inserire suoni della chitarra elettrica in vari pezzi, in musica elettronica, diciamo. Ho iniziato così, ascoltando, sperimentando, e poi ho realizzato che il modo più semplice per affacciarmi a questo ambiente era il mixaggio, insomma. Quindi poi ho iniziato ad ascoltare sempre più musica di questo genere, ad affacciarmi sempre di più a questo mondo e a voler capire come creare nuova musica mixando dei dischi. Infatti quello che vorrei fare in futuro è unire proprio chitarra elettrica e DJing, però sono ancora un po' a inizio. Eh, sarebbe un ottimo mix perché alla fine non è, diciamo, una cosa che si vede tutti i giorni, quindi è bellissimo anche questo. Cioè, quindi c'hai già provato all'inizio, quando tu magari, non lo so, avevi un disco magari meno melodico con un po' più di batteria. Sì, ma anche con i Prodigy, ad esempio, io strimpellavo magari su altre scale per cercare di completare, diciamo, il suono della chitarra. Mi divertivo così. Insomma, infatti poi è capitato anche che a feste di amici abbiamo affittato le casse e io non mixavo ancora nulla, però con la chitarra elettrica cercavo sempre di aggiungere qualcosa, perché poi lettrando si può anche aggiungere un po' di beat, un po' di ritmo, insomma, è stato quello più che altro. Poi ho iniziato a frequentare sempre più feste, sempre più party. Fino a quando hai avuto le ospitate, diciamo, hai iniziato a suonare nel vero senso della parola. Sì, poi ho iniziato con il Covid, ho ripreso questo viso di ascoltare sempre, sempre la musica in cuffia, H24. Poi ho detto, ho iniziato a pensare, ma però, ma canto a questo disco sarebbe bene questo disco qua. Dopo questo ci starebbe bene questo, insomma. Poi ho detto, proviamo. Ho comprato una piccola console, perché ovviamente, grazie a Damiano che mi ha aiutato ad affacciarmi a questo mondo dei dischi, lui è stato un po' un mentore. Ho iniziato a capire la differenza, poi. Cosa significa toccare la musica, piuttosto che schiacciare dei pulsantini. Esatto. Ne avevo già parlato nella prima puntata, infatti, diciamo, la differenza che faceva lui è proprio questo discorso qui, che, diciamo, lui chiama chi suona in digitale, persone che schiacciano i bottoni. Esatto. Questa semplicemente. Infatti, quando vai, diciamo, ad attoccare poi la musica con mano tramite i dischi, è tutto un altro discorso, anche perché, chiaramente, si sa che quando vuoi suonare con i dischi, li devi comprare, non li puoi scaricare da YouTube. Quindi, anche quello è un investimento, cioè, nel senso, non hai il computer, metti due tracce scaricate, a zero euro inizi a suonare. No, c'è comunque un investimento da fare, eccetera. Quindi, anche questo è da valutare. Tu mi hai parlato degli artisti, diciamo, delle band, più che altro, che hai iniziato ad ascoltare, quindi Prodigy, Led Zeppelin, Muse, eccetera, eccetera. Però, nella musica elettronica, in particolar modo, diciamo, quali sono gli artisti, magari, che ti hanno influenzato maggiormente o da cui trai ispirazione, se ce ne sono, chiaramente. Insomma, un po' difficile, perché, in realtà, ci sono vari artisti che seguo Simple Simmetry, e, ultimamente, visto, ci sono varie etichette che mi affascinano molto, anche, adesso, Ivan Iacobucci. Diciamo, la musica è in continua evoluzione, quindi mi piace sempre andare lì a scovare nuovi artisti, però, ripeto, ho iniziato principalmente con i Moderat, quindi, a Parat. Comunque, molto alternativo, perché, alla fine, io penso che chi si approccia alla musica elettronica, alla fine passa per i più conosciuti, no? Tipo, Carl Cox, Sven Bat, eccetera, eccetera. Invece, tu non sei passato da quel cantore. No, 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 peraltro, c'è stato un evento, in particolare, che può sembrare, solo perché può sembrare un artista pop, però, in realtà, nasconde dietro un bel progetto, sto parlando di Cosmo. Sono andata a un suo concerto nel 2018, dopo hanno suonato vari artisti, tra cui non vorrei sbagliare la pronuncia Anders Preck, poi anche Nea Pascal, e ho scoperto questo progetto, che si chiama Evreatronic, con vari artisti che sperimentano anche musica ambient, quindi, poi, da lì, poi, grazie anche alle piattaforme, a scovare anche altri artisti, artisti, diciamo, insomma, che non sono famosi, magari non conosce nessuno, però fanno cose molto, molto belle, molto sperimentali. Sì, no, è curioso, perché anche Cosmo, ad esempio, è stato sempre un personaggio che mi ha incuriosito, però non sono mai andato ad approfondire la sua musica, però vedendo qualche live, vedo che... sai il fatto suo, come diciamo noi, quindi... Sì, sì. è tanta roba, cioè, sembra pop, ma ha quell'elettronica particolare, che io l'ho conosciuto da quando si è esposto, se non mi sbaglio, nei tempi del Covid, per i musicisti. Sì, sì. Allora erano in difficoltà gli artisti, eccetera, eccetera, lui si è esposto molto su questo discorso qui, e di lì ho iniziato a conoscerlo, quindi, cioè, è un'influenza abbastanza alternativa. Sì, quella che portano nei concerti, molto, molto interessante. Anche Donato Dozzi, Curses, The Hacker, vabbè, sì, anche Miss Keating e The Hacker, sono stati anche loro un po'... che mi hanno fatto un attimino dire, wow, c'è di più oltre la classica musichetta, insomma. Sì, che poi anche non è classica techno, ma è quella elettronica più... Per dire, per chi magari come te ha suonato chitarra, vede magari la musica di Miss Keating e The Hacker molto più vicina a lui, piuttosto che la techno, che magari è solo cassa dritta e qualche piattino. Esatto, 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 sì. Una delle ultime volte ci eravamo lasciati che stavi impazzendo un po' con Ableton, quindi... Io e i computer... Ah, sì, vabbè, io e i computer siamo proprio... Esatto, ci vuoi parlare di questa esperienza, come sta andando, se sta... Perché, il lato DJ, ok, adesso è assodato, però volevi anche iniziare a produrre della tua musica, o sbaglio? Sì, sì. Solo che io purtroppo non riesco ad avere molto a che fare con i computer, diciamo, sto cercando di imparare molto bene, perché è una cosa che richiede tantissimo tempo, tantissima pazienza, perché le idee ci sono, ogni tanto cazzeggio un po' in live, con la tastiera MIDI, con la chitarra elettrica, che purtroppo, lo ammetto, non saprei neanche come collegarla, come interfacciarla, però prima o poi ci riuscirò, ci riuscirò, perché ho tanto da... Da esprimere. Da esprimere, esatto, sì. Aspettiamo tutti. E però alla fine per te potrebbe essere più comodo, come posso dire, registrarti gli strumenti dall'esterno, cioè utilizzare Ableton non per produrre, magari farlo in post-produzione, però più che altro per registrare tutti gli strumenti, no? Sì, sì. Magari una semplice drum machine dove tu ti fai la batteria, che poi quella è la cosa comunque più semplice da fare su Ableton, strimpellate con le chitarre, te le registri, MIDI te lo registri, lo usi come... cioè alla fine sull'interfaccia per registrare e poi... Sì, è proprio questo che non... non mi colpisce molto registrare una cosa, averla già pronta e poi magari appiccicarla, perché poi alla fine magari ti viene di fare un'altra cosa e quella poi non va più bene, soprattutto perché come sono io lunatica con la musica, insomma, anche quando suono magari dico, ci starebbe bene questo, poi cambio subito idea, dico, no, mettiamone un altro. Eh, quella fa parte sempre dell'indecisione da producer o DJ comunque c'è sempre. Parlando del tuo processo creativo invece, diciamo, qual è l'idea che tu hai prima di approcciarti a un DJ set? Cioè, come lo strutturi? Strutturo, basandomi prima di tutto su qualcosa che ho da esprimere, anche perché poi, diciamo che suonando in vinile non hai le cartelle di vari generi, quindi io personalmente penso di essere abbastanza versatile, diciamo, un po' eclettica, quindi lo strutturo innanzitutto con un intro che deve essere, deve prenderti un attimino spiritualmente, diciamo. Quindi parti dall'intro? Parto da un intro, sì, non mi piace partire già con un kick, no, mi piace già creare quella magia e poi basandomi anche su cosa mi circonda, sulla gente che mi circonda. Adesso abbiamo registrato uno showcase per il Tremito Festival, che sarà un festival in cui suonerò con Damiano a luglio e lo abbiamo fatto tra gli ulivi, quindi io mi sono preparata a dei dischi che avessero dei suoni che richiamassero un po' la natura, un po' con una scia a goa, capito? È stato poi un processo creativo un po' un po' complesso, proprio perché alla fine, per quanto si possa fare una cernita, alla fine i dischi sono quelli, non puoi magari immaginare come in digitale, adesso metto quel disco, tanto l'ho scaricato, l'ho comprato, due euro e via. Infatti, per quanto riguarda il processo creativo, più avanti non so se inizierò a integrare anche qualche pezzo con un disi, ma non penso, perché ogni volta dico ma lo faccio e poi mi tiro indietro, perché forse per adesso sono un po' fissata, però non mi sentirei coerente, perché è bello creare proprio musica così. poi per quanto riguarda il processo creativo è una cosa complessa che avviene con l'esperienza, perché a volte poi si capita di sfociare in altri generi, si perde un attimino il viaggio, perché poi si crea un percorso musicale, alla fine è un viaggio, alla fine, no? E io personalmente cerco di spingere sempre di più, sempre di più, a volte di inserire anche dei vocali, anche delle parti con degli strumenti musicali, ripeto, poi dipende sempre dalle persone che ho avanti. Io personalmente se vedo gente che non balla, che sta ferma, un po' mi spavento, perché è un po' come gli sciamani, bisogna che qualcuno ti dia dell'energia per contraccambiarla e questo è bellissimo farlo in mezzo alla natura, infatti non vedo l'ora di suonare in questo festival. Dove tra l'altro ci sono anche dei nomi pazzeschi. Sì, sì, Octav One, Francesco Farfa, non vedo l'ora, frappissimo Amorella, artistone, quindi non vedo l'ora. Grande, grande. Ci sarà tutta l'energia di cui hai bisogno per... Sì, sì, tutte le stelle. Esatto. Anche su questo siamo molto simili perché anche io quando vedo gente che non balla poi un po' mi... non che mi demoralizzo ma dico, cioè, voglio che ci sia quell'energia appunto dove sia corrisposta nel senso quindi che ci diversiamo insieme. Esatto, sì. La unica fra DJ e pubblico. Ok, quindi la reazione che tu vorresti creare un po' ne abbiamo parlato perché chiaramente se non vuoi che le persone stanno ferme non penso che tu vuoi una reazione chill da parte della gente però... Chill no, ma... Anche facendo parte del processo creativo cosa ti immagini di provocare nella gente che ti ascolta la reazione? Cosa qui dentro infatti a me è capitato di suonare e vedere la cosa che mi colpisce di più non è la gente che si dimena quanto fermarmi un attimo alzare lo sguardo e vedere una persona che ha gli occhi chiusi così guarda verso l'alto e magari sente qualcosa si emoziona ed è sempre stato questo il mio obiettivo poi naturalmente capitano anche delle feste e degli eventi in cui magari si suona musica un po' più spinta però prettamente mi piace scatenare emozioni spero di riuscire a farlo perché poi non è facile insomma suono generi che a volte non piacciono a tutti è una cosa che fa parte di tutti però non cerco mai di svendermi cerco sempre di esprimermi questo è ottimo anzi io che sono stato tuo spettatore varie volte devo dire che le emozioni è viceversa confermano anche dalla legia cioè le emozioni ci sono quindi la scelta dei dischi è assurda poi musica molto ricercata è quello che apprezzo di tutti quelli che ho invitato in questo podcast cioè io invito persone che a me piace cioè che a me piacciono quando suonano e se non mi piacciono chiaramente non li invito cioè non sto in imitare qualsiasi persona suoni solo con i dischi ma deve trasmettere deve avere quella musica ricercata che io vado cercando giorno dopo giorno perché purtroppo siamo circondati da musica commerciale adesso non so come la vivi tu il discorso della musica commerciale so che non la vivi tanto bene grazie al cielo ci sono etichette indipendenti e insomma bisogna andare un po' a scovare però per quanto riguarda un artista che mi sta mi sta colpendo Adiel sta facendo un ottimo lavoro sia in ambito di produzioni ha anche ha anche fatto un disco con Donato Dozzi che ha mixato un bel pezzacchione lei e lei mi sta colpendo molto grazie al cielo ci sono ancora artisti come lei che non si dimenano che non escono queste che non iniziano ad atteggiarsi a pompare le labbra e a perché poi alla fine la gente che è davanti non capisce quello che fa che fai si attiene a come ti muovi però principalmente sia in ambito per quanto riguarda la produzione che è DJing ci sono tante 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 non solo del sesso femminile che poi insomma il fatto che io sia femmina me la vivo per me è indifferente insomma però sia nel sesso maschile che femminile c'è questo dimenarsi questo mimare i testi mimare i brani che si è bello perché comunque catturi l'attenzione del pubblico ci si diverte però poi chi si fa il mazzo per creare nuova musica in maniera non semplice poi alla fine non viene mai apprezzato però però adesso ci si sta facendo molto di più al mondo del vinile quindi grazie a Dio sta diventando anche un po' di moda speriamo che che molti ragazzi imparino a fare quello perché poi molto spesso mi capitano persone che mi dicono mi insegna a suonare mi insegna a suonare è capitato con una ragazza che aveva qualcosa e lo sapevo che aveva qualcosa da comunicare le ho prestato addirittura la console e mi ha fatto un sacco piacere però poi ci sono ci sono persone che lo fanno proprio perché amano schiacciare il pulsante e dimenarsi atteggiarsi questo non va bene secondo me perché si perde il contatto col pubblico adesso tutte le serate c'hanno questi palchi enormi con tutte ste luci sti fumogeni tu devi stare alla stessa altezza della gente che ti sta avanti la devi guardare negli occhi devi sentire la puzza del sudore delle ascelle non puoi stare dall'alto come se fosse Gesù Cristo che poi vanno ad ascoltare che so pegigù tutti con sto telefonino così che manco si godono la serata testa questa che non fa un cazzo scusate mi permettono che fa un cazzo è brava insomma però alla fine non è che fa chissà cosa ma sembra che stia suonando non lo so uno strumento è dal vivo alla fine sì diciamo la scena è di più di quello che c'è da offrire come arte infatti come ad esempio adesso che mi hai riportato il nome di pegigù per farne uno per citarne uno io lei l'ho conosciuta alla boiler room che ha fatto al deck mantel non so se hai visto quel set ma ti giuro che era un bel set fatto in vinile molto alternativo mischiava generi dall'house all'elettronica più svariata e vedere diciamo quello che fa adesso un po' mi dispiace mi dispiace perché alla fine cioè vedere come l'ho conosciuta e vedere quello che è diventato adesso che rimane molto su commerciale comunque i dischi sono molto piatti cioè non trasmette più quelle emozioni che ha trasmesso a me vedendola neanche dal vivo cioè io l'ho vista vabbè il festival del deck mantel comunque ad Amsterdam cioè è un grandissimo festival però trasmettermi quelle emozioni in video piuttosto che dal vivo già era tantissimo invece adesso la guardo ma vedo più che si è creato un personaggio piuttosto che badare ancora all'arte immagina se adesso avesse continuato a lavorare in quel modo anziché portarsi giustamente una chiavetta perché poi la mia critica non era neanche riferita a lei ma a tutto ciò che si va a creare perché voglio dire chiamate la festa ad Adel che si trascina ogni volta le valigie con i dischi e alla fine sta avendo un grandissimo successo ringraziando il cielo no? quindi al di là del personaggio sono proprio diventano proprio dei prodotti come personaggi di musica pop ai quali viene detto di insomma non so non è che la conosco e so che le dicono fai questo fai quell'altro perché poi alla fine ha fatto anche delle belle produzioni Starry Night e quant'altro ma è proprio ciò che si va a creare intorno al personaggio anche Nina Kravitz è un artistone ha prodotto tanta roba però è la scena underground che si è andata si è persa alla fine si sta perdendo sempre di più è la scena underground l'energia sei tu che poi comunque devi stare un attimino lì da DJ a capire come come non perderla è un po' anche il motivo di questi podcast che io faccio anche queste interviste per capire un po' tutti quelli che sono i lati diciamo del pensiero alla fine comune che ha un DJ che vuole la scena underground perché magari molte volte le persone se lo chiedono ma non hanno risposta perché chiaramente non puoi ascoltare come posso dire questi grandi DJ che ti danno un parere sull'underground perché ormai fanno parte di quella scena un po' più commerciale tra virgolette anche se comunque musica tecna musica elettronica però diciamo che l'underground che noi intendiamo è il clubbing quindi quel locale un po' tutto più soffuso chiaramente la politica no video no foto per noi è tantissima roba cosa che ormai non puoi più immaginare nei festival perché come hai detto tu prima sono tutti col telefono in mano io quando vedo scene del genere mi fa cioè un po' mi dispiace perché si è perso quel discorso di andare a ballare e divertire anche i concerti i concerti cioè vivere il momento piuttosto che stare lì e far vedere a qualcun altro che tu sei stai lì e stai facendo quella determinata cosa esatto quindi siamo completamente d'accordo anche se sei giovanissima rispetto a noi un consiglio che vuoi dare ai giovani che magari si vogliono approcciare al mondo dei dj innanzitutto ovviamente non è non è un mondo per tutti bisogna avere comunque una predisposizione a meno che non ci si voglia approcciare in modalità digitale ognuno è libero di fare ciò che vuole però il mio consiglio è di non perdersi troppo ascoltando altri artisti cercando di voler replicare quel prodotto perché ci si può esprimere non solo con la cassa dritta non solo con con un solo genere se si ha qualcosa da esprimere lo si può fare quindi se c'è anche che so un artista X come aiuto un esempio un artista qualsiasi un artista qualsiasi David Bowen ah ok magari c'è un pezzo di lui che ti piace tanto lo puoi inserire cerchi il modo di farlo magari escludendo solamente la parte vocale togliendo i bassi si può fare questo io l'ho imparato vabbè non solo a mie spese ho capito che si potesse fare grazie a Mr. Tice che ha suonato proprio qui a Revero ha fatto un set di nuove ore in cui a un certo punto ha messo Lucio Battisti stava suonando a tre deck suono in vinile nel bel mezzo di questo di questo beat psichedelico sentivi la voce di Lucio Battisti quindi non si è limitato insomma il mio consiglio è quello di non limitarsi a proporre qualcosa di monotono perché se si ha davvero qualcosa di esprimere da esprimere lo si può fare quindi no anche qualcosina di più se no poi diventiamo delle repliche diventiamo tutti dei campioni diventiamo tutti uguali non si perde l'arte alla fine perché la musica tecno alla fine per tutti è cassa dritta bene o male con dei vari suoni non so si può fare di più ecco consiglio d'oro consiglio parole sante io sono d'accordo con quello che hai detto anche quei canti gotici pure chissà perché perché no magari un po' di lirica pure si magari uno si vuole fare prete affascinato dai canti gotici adesso ci sono anche i preti che fanno i dj quindi perché no ho visto ho visto comunque anche Mr. Tice che mi ha ricordato tantissima roba io non l'ho visto qui a Rever ma l'ho visto alla fabbrica ad Andrea si dice suonava tre dischi ma suona sempre un botto di ore che tu dici si cambia genere un po' funk un po' tech non sperimenta molto c'è altro che viaggio con lui veramente un viaggio di mezza giornata ma si ti porta da un sound all'altro spettacolo bene siamo arrivati alla fine di questo episodio se vuoi dire altro Silvia se magari non lo so vuoi dire qualcosa a chi ci sta guardando ci vediamo al Tremito Festival esatto Tremito Festival con Aura e Damiano e con altri artisti artistoni immersi nel verde sotto le stelle respiriamo un po' l'aria pulita dove lo fanno? così facciamo anche un po' di pubblicità a Tremito Festival vicino a Canosa con tre da Cefalicchio ok quindi per gli amici pugliesi avete Tremito Festival ci sono tre date mi hai detto giusto? sì sì 20 luglio ci salite voi ok e poi un'altra altre due ad agosto l'importante è il 20 luglio perché ci sono loro quindi andate ad ascoltare e ci dite poi i vostri pareri nei commenti non dimenticate di lasciare un like a questo episodio di ovviamente dirci nei commenti cosa ne pensate se volete dirci qualcosa ci fa piacere e iscrivetevi anche al canale ci vediamo la prossima puntata di Lato B a sorpresa vedremo chi ci sarà ciao ciao